La sala stampa del Sacro Convento di Assisi è teatro della conferenza molto importante dal punto di vista storico e culturale tenuta dal professor Pietro Scarpellini che ha per oggetto giotto relativamente alle relazioni che si possono trovare tra gli affreschi presenti nella Basilica Superiore e quelli che si trovano nella sala dei notari del Palazzo dei Priori del Comune di Perugia. Un'interessantissima relazione che in qualche modo anticipa soltanto di poche ore l'apertura dell'importante mostra su giotto che si apre a Roma all'altare della patria. Professor Pietro Scarpellini, giotto e la Basilica Superiore è un tema di un fascino tale che ha superato i secoli eppure è ancora necessario parlarne. Eh sì, è necessario parlarne perché ci sono molti che dicono che giotto non c'è. Io sono invece tra quelli che pensano che giotto ci sia. E questo è il discorso. Però bisogna un po' parlarne appunto perché è un argomento un po' spinoso. Padre Giuseppe Piemontese è il nuovo custode del Sacro Convento di Assisi. Per lui quasi un esordio, diciamo così, questa conferenza del professor Pietro Scarpellini su giotto. Particolarmente interessante questo avvicinamento tra l'aspetto laico della sala dei notari di Perugia e la Basilica Superiore a livello di pittura di giotto, quello di cui appunto ci parla il professor Pietro Scarpellini. Forse una volta, come è stato anche accennato da qualcuno dei relatori in sede di presentazione, il confronto era più duro ma i risultati erano grandissimi tra laicismo e religiosità. Cosa resta di quei tempi oggi? Ma il confronto oggi è ugualmente vivo e importante. Qualche volta trasborda e crea qualche difficoltà di comprensione e di relazioni tra il mondo ecclesiale o tra chi crede e chi non crede o sta completamente nel mondo. Diciamo che a mio avviso normalmente questo confronto si mantiene, almeno in Italia, su linee accettabili. Qualche volta, e soprattutto sui temi molto delicati, diventa più che un confronto uno scontro. Però dobbiamo imparare a confrontarci, a rispettarci e arrivare a nuove sintesi, come del resto si è arrivato nel 1300 con cicli pittorici. Il tema di cui si sta parlando può aiutarci anche in questa nuova sintesi. Questo è un anno importantissimo per il francescanesimo, un grande anniversario, è anche un anno importante per Assisi che avrà senz'altro un ruolo di valore europeo, così come l'ha avuto anche nella nascita della pittura. Sì, io credo che sia un anno importante per il mondo ecclesiale, qui di Assisi, per noi francescani, ma anche per la città di Assisi. Devo dire che stiamo avendo un bel confronto con l'amministrazione, con il sindaco, un confronto che non è soltanto sulle cose da fare o sul momento celebrativo, ma proprio un confronto sui valori, sugli ideali. Arrivare a mettere al centro di nuovo Francesco d'Assisi con tutto ciò che rappresenta per la Chiesa e per la società. Per quanto riguarda noi francescani, è chiaro che noi vogliamo riandare alle nostre origini al momento della conversione di San Francesco, dell'approvazione della regola e degli inizi, ecco, di quell'entusiasmo che portò poi a una crescita esponenziale di santità, ma anche di missionarietà in tutta Europa. E dal punto di vista della città noi ci auguriamo che si apra un confronto e un dialogo nuovo, proprio a partire da questi valori e dalla vocazione di Assisi, che è Francesco d'Assisi.